buongiorno ciò che sorprende sempre del capitolo 5 di matteo oggi versetti dal 13 al 16 e il tempo dei verbi che gesù usa nel suo discorso rivolto ai discepoli voi siete il sale della terra ci dice voi siete la luce del mondo non è quindi un comando non dice voi siate non è un'esortazione non è di conseguenza nemmeno un giudizio o un'imposizione è piuttosto la rivelazione di una identità voi discepoli miei siete il sale la luce dirci chi siamo è un grande dono che il signore ci fa perché viviamo spesso la nostra vita impauriti incerti insicuri proprio perché ancora non abbiamo compreso qual è il nostro posto nel mondo cioè la nostra vocazione identità e sinonimo di vocazione e lo capiamo proprio nel momento in cui questa identità ci viene rivelata da un altro che ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi stessi è gesù figlio di dio appunto che ci rivela quello che siamo chiamandoci per nome e regalandoci la grazia di una bellezza infinita che ci appartiene essere sale della terra significa essere coloro che danno sapore e non importa se si tratta di rimanere un po nascosti o di perdersi nella massa e nella folla il tema fondamentale che se noi non ci siamo questa folla e questa massa rimane anonima e perduta senza gusto senza sapienza perché il sapore è l'altro nome della sapienza del senso profondo delle cose i cristiani i discepoli di noi dunque siamo coloro che portiamo la sapienza nelle cose del mondo immergendoci dentro e portando il sapore che viene dall'alto per far comprendere come le cose di dio sono immerse nelle cose della terra per dargli spessore e profondità siamo poi luce del mondo e non è un inno narcisismo alla vana gloria contrario e l'impegno essere coerenti con una testimonianza coloro che guardano i cristiani devono poter dire così a gesù se loro si amano così tanto e si amano così tanto tutti allora questo significa che dio ci ama ancora di più e vale la pena seguirlo essere luce nel mondo perché si possa dare gloria al padre significa vivere con la consapevolezza che tutto quanto di buono e di bella possiamo fare non è merito dei nostri talenti soltanto ma è frutto di un'adesione totale di un collegamento profondo alla centrale elettrica che dà energia questa luce accesa la centrale dello spirito santo che viene dal padre noi siamo il sale noi siamo la luce ma la centrale elettrica è dio colui che dà sapore al sale è dio non perdiamo allora il contatto perché così potremo essere fedeli la nostra identità buona giornata